Oltre la metà dell'acqua immessa nelle tubature abruzzesi non arriva ai rubinetti delle case e ora la politica vuole vederci chiaro. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'istituzione di una commissione che si occupi specificatamente di risorse idriche. L'Abruzzo è tra le regioni italiane che maggiormente devono fare i conti con la mancanza di acqua. La carenza è dovuta da un lato a questioni ambientali, i cambiamenti climatici hanno ridotto precipitazioni e ghiacciai, l'estate scorsa ad esempio fu segnata dalla siccità e le società di gestione furono costrette a razionare la distribuzione dell'acqua. Dall'altro lato però l'acqua manca perché quella che c'è va sprecata, secondo l'Istat circa il 55 per cento di quella immessa nelle reti di distribuzione va persa perché le tubature vetuste inadeguate perdono. Nel Chietino addirittura l'acqua sprecata supera il 70 per cento, gli interventi di manutenzione spesso lasciano i rubinetti a secco e comuni in diverse occasioni sono stati costretti a chiudere le scuole. Il problema però resta irrisolto, anzi peggiora. Negli ultimi 30 anni la dispersione d'acqua è aumentata di circa 20 punti percentuali e ora dovrà pensarci la commissione regionale a tappare i buchi. L'acqua è una risorsa e un diritto di ognuno di noi ed è il dovere della politica proteggerlo con cura, ha dichiarato a Lanza Sara Marcozzi, capogruppo dei 5 Stelle e lei la prima firmataria della richiesta di istituzione della commissione. La commissione dovrà verificare l'attuazione delle normative nazionali e regionali, dovrà indagare sullo stato delle infrastrutture, fognature e depuratori compresi, dovrà accertare le cause degli sprechi e le eventuali responsabilità, monitorare gli interventi e il razionamento delle risorse. La proposta della pentastellata ha trovato l'accordo degli altri gruppi consigliari. La commissione dovrà dare un contributo anche sulle prospettive, gli interventi e le risorse che arriveranno con il PNRR, ha detto il capogruppo del PD Silvio Paolucci. Il piano nazionale infatti dedica all'acqua una sezione importante di progettazione. Un lavoro, quello della commissione, che il presidente del consiglio regionale, il forzista Lorenzo Sospiri, chiama percorso di verità, da cui dovranno arrivare suggerimenti tecnici e gestionali. La commissione sarà in carica per sei mesi a partire dalla sua formazione. Al termine di questo periodo sarà redatta una relazione sugli esiti dell'inchiesta. Il via però arriverà in base alla prontezza dei partiti. La commissione infatti nascerà ufficialmente con la nomina dei componenti, che i gruppi consigliari dovranno indicare in proporzione alla consistenza dei partiti all'emiciclo. Poi sarà convocata una prima seduta per nominare il presidente.